Per prima cosa, voglio dire che sono super contento di dare il benvenuto ai miei amici all'annuale vacanza invernale a Blackwood. Quello che voglio fare è passare del tempo con tutti voi. Voglio condividere momenti che non scorderemo mai, anche in ricordo delle mie sorelle. Devo andare da Sam. Figlio di puttana. E così sono finito dietro. Ero accanto a Josh e così ci siamo incontrati. Boom. Effetto farfalla. Questa montagna sembra più grande ogni volta che ci siamo. Capitolo 2, gelosia. Nove ore all'alba, mi sembra, sì. Ok, incontriamo Josh, il fratello di Anna e Beth, le due sorelle scomparse. Sì, forse hai ragione. Quando monterete qualche ripetitore per cellulari? Sono in astinenza. Se hai un milioncino che ti avanza, possiamo farlo subito. Ora che ne lo dici, l'ho lasciato nell'altro giubbotto. Ehi ragazzi, tutto bene la salita? Sì. Beh, più o meno, ma è bello vederti. Eccolo lì, l'amichetto che ci osserva. Entra già in azione? Ok, siamo nella baita. Preoccupati. Sembra sempre di fare la cosa sbagliata. Ma in effetti, è quello che mi stavo chiedendo anch'io. Ma va a cagare, va. Oddio, è già ubriaco. Attenzione, Josh è già andato, signore. Fai strada a capo. Va bello essere di nuovo qui, dai. Eccolo lì. Attenzione. Protestiamo. Alla finita. Voglio dire, se non te la fai tu, magari potrebbe farci un pensierino. Ma la vuoi piantare? Eh? Volevo solo vedere se riuscivo a farti arrabbiare un... E ci sei riuscito, bastardo. Sì. Senti, amico, dai un'occhiata. Guarda queste splendide montagne. Vedi qualche genitore? No, voglio dire, riesci anche solo a immaginare uno scenario migliore? Qualcosa di più incredibilmente erotico? Tu, e Ashley, finalmente soli. Hai preparato tutto a dovere. Sei stato il perfetto gentiluomo. Ora, metti a segno il colpo. Bam! Ce l'ho d'accordo. Forse hai ragione. Ci sta. Sei un cacciatore, bello. Ci sta, ragazzi. Non devi lasciarle via di scappo. Va bene, ho capito. Ho capito. Allora, un attimo qui qua c'è un'ascia. Qualcuno l'ha già presa. Porca puttana. E lì si è trovato sul porto ascia. Poi, qui c'è un altro indizio. Boh, spingiamo un po'. Dai! Oh, oh. Ma, Santa Chris. Cioè. Ale, di schiena così, proprio. Alla grande. Mi si è piaciuto? Mi si è piaciuto. Ossosacro rotto. Oh porca puttana No Un accendino cos'è? Sì Ti chiudo dentro Potresti usare quello con l'accendino No non ti seguo A chi ci serve uno tic di deodorante? Una bomboletta Oh sì ora capisco Lancia fiamme Proprio come facevamo con i soldatini Sì li fondevamo Basta puntare lo spray contro l'accendino e Ciao ciao serratura ghiacciata Bingo Ci sta è vero Bene pensaci tu Io devo andare a fare una cosa Te la senti di cercare al buio per un po' No ma lo farò Buona fortuna ragazzo Bah Io ci muoio già Qua dentro lo so Ok qua per terra Totem ragazzi Totem Cosa mi dice? Attenzione È un totem perdita ragazzi Rischio per qualcuno se non sbaglio Ovviamente come si è visto dal Dal video Però attenzione Porca puttana Attenzione perché Quella che stavamo per perdere Tecnicamente Mi sembrava Come cazzo si chiama Emily? Ok entriamo in questa Qua c'è un quadro Bello Ok Ritratto di famiglia Molto bene La porta si è chiusa così Madonna ragazzi Mi sono caccato addosso io Allora ragazzi Un attimo Un attimo Scusate eh Però voglio un attimo anche tornare indietro Perché c'era anche un'altra porta Ah ok perfetto Ok ho trovato un altro indizio Per fortuna che sono tornato indietro Allora Cos'abbiamo qui? Ex custode condannato per incendio doloso Giura vendetta contro la famiglia di un magnate cinematografico Victor Milgram 52 anni è stato condannato ieri a 16 anni di carcere per incendio doloso Aggravato Provocato a Blackwood Pines Molto bene Milgram è stato custodito nel vecchio hotel montano per 28 anni Tuttavia quando la proprietà è stata acquistata dal produttore di Hollywood Bob Washington Milgram è stato licenziato Con grande sorpresa La sentenza si è conclusa con un furioso Milgram Che ha urlato oscenità alla moglie incinta di Washington Melinda Definendo una puttana del cazzo Ha aggiunto di vendicarsi di lei Di quello stronzo del suo marito e dei suoi figli Aggiungendo che li farà soffrire Melinda ha visibilmente lottato per mantenere la calma durante l'intero processo Alla fine ha affermato che nonostante fosse rimasta scossa dalle minacce di Milgram Confida pienamente che il sistema legale Terrà al sicuro lei e la sua famiglia Ma guarda io non credo proprio La chiudiamo così Probabilmente questa persona qui Ci farà soffrire Ora possiamo tornare dove abbiamo visto una porta chiudersi da sola E il che non mi piace sinceramente Però andiamo Eccoci qua Avanti permesso chi è? Buongiorno Buonasera Anzi Ma sento delle voci Questa porta non si apre ovviamente Lì c'è Ashley Uffa Ma Guarda ti dirò In realtà sì Però Si vede che lui si diverte A fare queste cazzate Madonna Questa era la casa Tutte le porte sono ovviamente chiuse Io mi sto facendo la cacca d'osso Te fratello sei malato a fare una roba del genere da solo Un nuovo messaggio Messaggio Salve signora Washington Sono di nuovo il sergente Tate Demo che ci siano delle brutte notizie Abbiamo esaminato i documenti E non c'è nulla che si possa fare Oddio Beh direi che questa cosa Direi che questa cosa Non volevo sentirla neanch'io Fatto del ballo sudentesco Stiamo raggiungendo Un bagno Sì Questo è un bagno No non è un bagno Questo è un bagno però ragazzi Sicuro Eccolo qua Bagnetto Fantastico Deo Porco zio Non posso crederci ragazzi No c'ho la pelle d'oca No ma stiamo scherzando Non posso Permettermi di Perfetto Eh ma è quasi venuto un infarto Qui ci stiamo congelando le chiappe Che bello le chiappe congelate Oh forse funziona ragazzi Eh bravo Grazie 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 Sarò qui tutte le sere No Ma porca puttana di nuovo Ma porca ficcia Quell'animale mi ha spaventato Che cos'era Stai bene? Era un orso Una tigre Non so Oh era solo un tenero Cucciolo di ghiottone Cucciolo Non preoccuparti La grande ti passerà la paura No ciao ragazzi Mi ha distrutto Mi ha distrutto Quell'orsetto Lavatore lì Casa dolce casa Non la definirei proprio Dolce Grazie a Dio Siamo dentro Ok ragazzi Ci siamo tutti Accenderò il camino Questo posto è sempre lo stesso Nessuno ci è più venuto E tutta la polizia Che è stata qui? Non c'è stato Tanto movimento Ultimamente No Ma ciao Pestaioli Ehi Oh te lo ricordi Va vai Io continuo lo scontro Sì sì Io sfido Non mi interessa Che facevi con Emma sul sentiero? Cosa? Ti ho visto con Emma? Con il binocolo? Prima? Ci siamo incontrati Era un po' che non la vedevo Così l'ho abbracciata È illegale? Ah Certo Certo Non fa una piega Sai cosa? Pensa a quello che ti pare È un paese libero Sei attento Mike Oh Bisogna farsi sentire ragazzi Bisogna farsi sentire Però insomma Non c'è un bel Ambiente Dentro questa casa Lasciando stare il contorno Ovviamente Tra le persone Non scorre buon sangue Oh mio dio Ma che schifo Stai cercando Di ingoiargli la faccia? Andiamo Non potrebbe essere Più discreta? Tanto nessuno Vuole la tua roba Tesoro Scusa Hai detto qualcosa? No Forse Il tuo troieggio Era troppo Un po' rumoroso Sembra che a qualcuna Bruci essere stata scartata Già Per te Come al mercato del bestiame Sei una vacca Di prima scelta Ti brucia proprio Chiamare vacca Miss homecoming Vabbè Stai zitto Matt Stanne fuori Idiota Ehi Attenta Oh Solo tu puoi metterlo a taceri Adesso Nessuno può usare i tuoi giocattoli Sei proprio una stronza Vabbè Non me ne frega un cazzo Di quello che penso Ma Media del nove Stronza Ricordati di me Quando darei via al culo Per lavorare Chi ha bisogno di studiare Quando si hanno a disposizione Tutte queste doti naturali Ci prego Non compreresti Neanche un panino ammuffito Con quel culo secco Dici sul serio? Credi che sia un insulto? Questa stronza è fatta O quasi No io si dramatizzo Mi dispiace Emily basta Stai esagerando Non c'è motivo Di litigare così Già Em Perché ti metti a litigare Per il tuo ex ragazzo? Basta Non è per questo Che siamo venuti qui Questo non ci aiuto Non è quello che volevo Se Se non riusciamo Ad andare d'accordo Per dieci minuti Forse ci serve Un attimo di stacco Mike Perché non vai a vedere Il capanno Quello di cui ti ho parlato Sì Sì ok Ti va di andarci? Sì ma senza quella puttana È proprio lungo il sentiero È finita Già Allora Joss Mette un po' più di palle però Dov'è la borsa? La mia borsa Quella piccola Con i disegni rosa Quella che ho preso da rodeo Matt mi stai ascoltando? Oh mio Dio Non ti ricordi Accanto al negozio di scarpe italiane Dove ho preso le stiletto E tu hai fatto cadere Quell'espositore Mentre sbavavi dietro Alla cassiera Cioè Mi stava chiedendo Del giubbotto di pelle Che indossavo Certo Le importava proprio Del tuo giubbotto D'alta moda Perché odi il mio giubbotto? Matt mi serve la borsa Oh mio Dio E ma forse Te la sei dimenticata Pensi che io Dimenticherei la borsa? Beh Allora Direi di no L'avrei lasciata giù Alla stazione Della funivia Dai tesoro Torniamo subito E poi potremo scaldarci Sì potremo scaldarci Ma fate inculare Mili va là Mi stai proprio sui coglioni Ok Andiamo Ok Andrò a farmi un bagno No boh Dai Che cosa attesa Scacciati Approfittiamone Per me va bene Quanto è lontano Questo capanno Comunque Questo capanno È il nido d'amore Più caldo e romantico Che tu possa immaginare Se ci arriveremo Oh mi sento abbastanza fortunato Gioca bene le tue carte E potrebbe anche essere Ehi porno divi Queste Pagherei per vedervi Che schifo Scusate se vi ho buttati fuori così No problem Oh sono certo che troverete Un modo per passare il tempo Tu divertiti con quelli stessi Sfigato Oh quasi scordavo Bisogna accendere il generatore Altrimenti non vedrete niente Ormai è buio Ok Accendiamo sto generatore Va là E' qua Ok Gli chiedo di unirsi a noi Sei serio? Cosa? No! Non esagerare Adesso non è che tutti quelli che ti parlano Ci provano con te Porca la Grand roia Quindi Non mi era accorto Se sicuramente si potesse andare In questa strada Un Totten Non è che potresti sbrigarti Con questo cavolo di Jenny Cos'è il Jenny? Il generatore Totten pericolo ragazzi Ma attunno Eccolo il Jenny Non che si volesse molto Ok Jenny è andato Orca troia Mi sono cagato addosso Niente ragazzi Mi cago addosso Tutte le volte qua Però io tornerei in casa Sono un po' tese Eh Rispettoso Beh Dovunque siano Sono sicuro Che sono felici Di sapere Che le pensiamo È una cosa molto bella Da dire Sì Ma c'è Per quanto possa essere difficile In questa situazione Continuare a tirarlo fuori Potrebbe essere solo più dannoso Anche se sinceramente A parte che io In quella situazione Non ci sarei mai andato Assolutamente Che cazzo è stato ragazzi Un urlo Cioè era un urlo Quello era un urlo Beh Cioè lei prosegue così Io mi sarei tornato Volentieri in casa Sinceramente Che cazzo Non so se arriveremo Al capanno Con il sentiero Bloccato così Non ho nessuna intenzione Di tornare alla baita Per vermi una cioccolata calda Insieme Che cazzo Cazzo Ehi Jessica Sì Ehi Sto bene Porca troia Mi hai preso un colpo Credi che io Mi sia divertita Eh Ho capito però Non ti sei fatta male Vero Che io sappia Ho ancora tutti e sette I miei ardi Bene Vuoi uscire? Eh Non lo so Sette Ah ok Credo di aver capito No ragazzi Ragazzi non lo so No io salterei giù Ok vengo io da te Stai ferma Sì Ehi tesoro Mi aiuteresti a spostare il carrello? Porca troia Spingiamo sto carrello Bene Dammi una mano a spostarlo dai 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 spostiamo sto carrello Che il tipo dietro Arriva in 448 Non era così che ci immaginavo A sudare insieme Sempre questi doppi sensi Porca puttana Porca puttana Oh 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 Ma che ricerca? Mi erano anche accorto Che c'era un triangolo lì Da premere Sono molto teso ragazzi Porca troia Porca puttana Mappa dei pericoli Non ho capito Non ho capito se Era Diciamo Conforme a come è fatta adesso O era di tanto tempo fa Ragazzi me ne vado Me ne vado Cioè io l'unica cosa che vorrei fare Adesso è uscire Ecco qua c'è il capanno Cioè si che sali Per l'amor di Dio Oh signore Eccolo lì Stai bene? Ho visto qualcuno al capanno Ok Fammi guardare Porca troia Che c'era un uccello Scusatemi ma io voglio guardare ancora Adesso non vedo più niente Non è che per caso hai bevuto tesoro Che siamo solo noi qui Non ne sarei molto convinto Beh ovviamente Ehi Jess Non allontanarti Perché? Ehm Ehm E' che qui dice che da queste parti ci sono degli orsi bruni Sì vabbè Oh Michael Ho un'idea geniale Cioè? Abbracciamo un orso Dai per favore Ma donna ma sei seria? Meglio evitare di abbracciare gli orsi Oh guarda Ma Dio santo Due colpi ho preso Tre colpi ho preso Irritato Oh Oh Non potevi almeno sistemare il sentiero Prima di spedirci qui? Davvero? Eh? Non mi sembravi un tipo da bicchiere mezzo vuoto? Hai idee migliori? Stai indietro pessimista Stai indietro pessimista Oh buh Sbruffona Ehi Mike Hai qualcosa sulla faccia? Boom Troppo simpatica Ok 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 Porca troia Le cose andranno molto male Ecco appunto Ecco appunto Dove è andata Jess? Mi aiuti ad accendere il fuoco Beh Stavo Entrando in vasca Oh Non è che per caso ti serve una mano? No Grazie Oh Oh Ma Le luci Bene Josh Vediamo se sai come far arrivare l'acqua calda nella tua grande e bella baita Bene adesso siamo Sam Non incontro mai nessun altro ragazzi Mi piacerebbe vedere qualcuno che gira per sta casa E non essere sempre qui da solo Che brutta sensazione ragazzi Cioè potrebbe veramente capitare qualunque cosa Da un momento all'altro Ok Sono quasi certo che da qualche parte in casa avevamo una tappa Tammola spiritica Beh Quelle cose sono finte dai Non fanno niente No ti sbagli La usavamo spesso Ehi Josh Il fatto che non ci sia acqua calda Mi pare un bel problema Sì Lo so Bisogna Accendere la caldaia È nel seminterraneo Voi piuttosto Vedete di trovare la tavola spiritica Chris Cerchiamola Dai Sarà come una caccia al tesoro Ok Josh però vieni con me vero? Non ve ne pentirete Ti va di fare un giro? Andiamo Almeno ci sei te Ehi Hai visto come sono riuscito ad assegnare a Chris Esce una missione? Ah Credo che un po' di tempo da soli gli farà bene Sono così carini insieme Vorrei che si decidessero a darsi una mossa Secondo me hanno bisogno di qualcosa che li leghi Capisci? Una specie di evento traumatico che li faccio mettere insieme Altrimenti saranno entrambi due vecchietti Prima che Chris si decida a fare la sua mossa Osteria Cos'è questa? Ah un'altra foto Giriamo Cosa è scritto? Josh con le sue adorate sorelle Annabeth State proprio bene Che bel sorriso Sì Josh Io volevo dirti Cosa? Per me è molto importante che siate tornati tutti quest'anno E che Sia tornata tu Eh Rassicurante direi Josh Siamo qui per te Se ti serve qualcosa Davvero Noi tutti ce la faremo Insieme Voglio solo che ci divertiamo Ma io lo spero Le promesse non sono buone Grazie Ma non si sa mai Magari c'è un quick time E me lo perdo Ok Ci siamo Scusami tanto Se ti ho portato qui sotto Portami un po' d'acqua calda Così saremo pari Voglio dire Non saresti mai scesa Qua sotto da sola Vero? Beh qui È abbastanza inquietante Già Meglio non venirci da sole Perché è così simpatico? Una masta baseball Chiediamogli se è sua Che ci fa qui questa? È tua? Certo che sì La usavo per giocarci con mio padre Logicamente Prima che Non avesse più tempo Da dedicarmi Ti entra avvicino amico Porca troia Dovevo tenermelo Cosa stavo guardando? Cos'era cosa? Cosa cos'era cosa? Quando c'è questo Questo robo qui Non mi devo muovere Non male Sì ma lui fa avanti e indietro Porca puttana Non fa un cazzo Cioè devo Allora giro E spingo Ho visto qualcuno Passare dietro ragazzi Bene Fatti cinque Sì Ho visto qualcuno dietro C'era qualcuno dietro Passato Sei molto simpatico Spaventata Scherza Oddio Non muoverti Cosa? Dietro di te Sì certo No con Juliana Basta Non mi piace Ma io ci sono già spaventato Non ci vuole molto La massa La massa da B La massa da B Dovremmo controllare Mi sto cagando addosso ragazzi Scherza Vanculo Troia Ma porca puttana Ma chi è sto coglione? Corri 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 Non inciampare Stronza Non lo so Ma vaffanculo Porca troia Ma vaffanculo E' bello Ma perché hai fatto Una cosa simile? Qua sotto E' pieno di attrezzi Di scena Come avrei potuto Non sfruttare l'occasione? Dici Dici sul serio? E tu ne eri al corrente? No però è stato bello Davvero Roba forte Porca puttana E va bene Ammetto che il tuo scherzetto idiota Forse era un po' divertente Maestro dello scherzo Non ho detto Niente del genere Ho detto che il tuo scherzo E' idiota Cazzo se avevi paura Ammettilo Non è vero Andiamo Te la sei fatta sotto Josh Ma che cavolo hai addosso? Ma guarda Ha una storia lunga Ti prego Dimmi che farai Il voto del silenzio Ok Ok Almeno hai trovato Quello che cercavamo Ecco il nostro biglietto La tavola Ouija Sapete No 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 Ho già avuto Spaventi a sufficienza Per stasera Adesso ho solo voglia Di un bel bagno caldo Vai per favore Semvola Ma occhio a Josh E' un cospiratore Ok E' abbastanza intenso Di spaventi Questo Capitolo Siamo tornati Di nuovo Dallo psicologo La stanza Si sta degradando Vorrei capire i tuoi sentimenti Verso la gente Che teme L'isolamento La solitudine Condividi Questa paura Si Si Ragno Viscere Davvero Perché Non si direbbe Dal modo in cui Stai giocando La tua partita Lo sai Ma come E ora Andaviamo più a fondo Sui tuoi sentimenti Nei confronti Degli altri Ma che cosa tieni E cosa rispetti Di te E degli altri Che cosa Secondo te E' più importante In una persona Lealtà O d'onestà Onestà Ok Quindi diresti La verità Anche se fosse Spiacevole Per un tuo Amico E cosa pensi Di onestà E carità Onestà La carità E' sopravvalutata Immagino Meglio essere veri Con se stessi Che aiutare Gli altri Ancora una volta Temo che il tempo Sia finito Ne riparleremo Presto Ma forse non ho capito Mi sa che non ho capito Mi sa che non ho capito Mi sa che non ho capito La seconda domanda O forse non ho capito Cosa intendesse Lui per carità A me Io non voglio mai Restare da solo In realtà E sto facendo Tutte le scelte Per stare in compagnia Mi sembra Sinceramente Non ho capito Perché mi ha detto Questa frase Su come sto giocando Forse semplicemente Bisogna andare avanti Per stare in compagnia Per stare in compagnia Per stare in compagnia Per stare in compagnia Per stare in compagnia